Insieme per la scuola, Digital Room è l'ambiente digitale pensato per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in cui trovare contenuti inediti ed esclusivi per una didattica attuale e coinvolgente, in grado di indirizzare gli studenti verso una cittadinanza attiva e consapevole. Tutti i contenuti sono stati realizzati da un team di esperti di didattica e sono suddivisi in cinque moduli, ognuno legato a un grande tema di cittadinanza. Ciascun modulo propone quattro unità didattiche e un gioco interattivo. Il primo modulo è dedicato all'ambiente ed esplora tutti i temi legati alla sostenibilità e al futuro del pianeta. Il secondo modulo è un viaggio dentro la nostra Costituzione. Cosa significa essere cittadini italiani ed europei? Passando dall'universale al particolare, il terzo modulo approfondisce l'importanza del senso civico nella quotidianità. E cosa c'è di più quotidiano della navigazione in rete? Con il quarto modulo si dà inizio all'esplorazione del mondo del web. Il viaggio si conclude con il quinto modulo, dedicato all'educazione emotiva e alla relazione con gli altri. Questi contenuti sono pensati per mettere in pratica una didattica innovativa, che usa il digitale come mezzo a supporto delle attività in classe. Le attività sono tutte collaborative e studiate per far sì che gli studenti interagiscano e lavorino insieme. È inoltre previsto un gioco di gruppo per ogni modulo, realizzabile sia in formato digitale che in formato analogico. Vuoi utilizzare i contenuti proposti e creare una nuova lezione su misura per la tua classe? Insieme per la scuola, Digital Room è pensata anche per questo. Potrai infatti creare in modo semplice e veloce lezioni personalizzate, fruibili da tutti i device. Puoi includere anche i tuoi file personali, inserire video, immagini e link. Clicca e la tua lezione è pronta! Ora non ti resta che condividere le tue lezioni all'interno della community dei docenti. Uno spazio sicuro dedicato agli iscritti. Contenuti, strumenti e condivisione per una scuola attuale. Tutto questo è insieme per la scuola Digital Room.